il cantarellus tubeformis è un fungo tarado autunnale invernale che deve il suo nome alla somiglianza con una tromba può essere facilmente confuso con il cantarellus lutescens essendo le due specie davvero molto simili in realtà la distinzione tra i due ha più valore accademico e micologico che non pratico visto che entrambi sono ottimi commestibili è una specie simbionte caratteristica dei boschi di conifere e dei boschi montani di latifoglie e cresce sul suolo muscoso e acido si tratta di un fungo diffuso nell'europa centro settentrionale nella parte più a nord degli appennini e sulle alpi in america settentrionale in scandinavia di solito fruttifica in gruppi abbastanza grandi e più tardivamente rispetto ad altri funghi a volte si può trovare vicino a gruppi di idnum repandum fungo comunemente noto come stecchirino dorato di cui vi ho già parlato in un altro video il cappello ricorda la forma di un imbutto infatti in svezia ha un nome che suona come imbuttino e misura 2 6 centimetri è di colore bruno grigio o bruno ruggine fibrilloso o lievemente tomentoso più o meno lobato e increspato al margine il cappello presenta un'apertura come un'ombelicatura che si prolunga all'interno del gambo che infatti è cavo le lamelle che sono in realtà delle pseudolamelle ovvero delle pieghe o delle rugosità della carne sono decorrenti e di colore inizialmente giallo pallido poi grigiastro sono abbastanza grossolane e spesso biforcate il gambo cavo si assottiglia verso il basso e presenta delle costolature più o meno evidenti e di colore giallo o tende al giallo bruno a partire dalla parte sottostante il cappello la presenza del forellino e del gambo cavo sono elementi fondamentali per distinguere da specie simili come la leozia lubrica o il micidiale cortinarius rubellus un fungo velenoso mortale la confusione con il cortinarius rubellus può avvenire perché due funghi crescono in ambiente simile ma di norma questo errore è dovuto più che altro ad incuria i due funghi sono infatti francamente molto diversi un altro fungo che assomiglia al cantarello stube formi è la leozia lubrica questa è più gelatinosa o cerosa e manca delle pseudolamelle sul lato inferiore del cappello la carne di questo fungo è sottile e fibrosa il cantarello stube formi se un fungo davvero molto gustoso si tratta di un ottimo comestibile qui in svezia viene comunemente essiccato per conservarlo durante l'inverno ed è impiegato nella preparazione di zuppe primi piatti contorni per piatti di carne o semplicemente per mangiarlo insieme a dei crostini io lo preferisco triforato con un po di burro insieme ai cantarelli da mangiare sopra una bella fetta di pane se questo video ti è piaciuto lascia un like iscriviti al canale e lascia un commento grazie per avermi seguito a presto